La crisi economica sicuramente ha giocato un ruolo, la crisi economica, perché con la crisi economica è più facile che saltino anche gli equilibri, perché quando ci sono le ristrettezze tutto diventa più duro da affrontare, però non possiamo nasconderci dietro la crisi economica, penso che le radici di questo fenomeno siano più radicate rispetto alla crisi economica, quindi va fatto un lavoro proprio a 360 gradi.